o la fa scendere è meravigliissimo ah ma dipende se ci sono degli scalini o dei twist cacciuti è come molte manovre ah e giri nello stretto ah esatto che il rischio è anche che tocchi i paletti degli altri colori non solo i tuoi ah non puoi provare eh no eh grande che non lo prende non l'ha toccato si deve amare la 2 qua ah la gira larga ah con tutte le 4 le ruote che girano giù e giù qua ah con tutte le 4 le ruote che girano ah 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 bacca bestia ah 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 uscire dalla 1 e andare fuori grazie a tutti